E' sempre la stessa, perché? No, niente, tanto per parlare. Allora dove li prendi i soldi per comprarsi tutte quelle merendine alla soia? Allora dove li prendi i soldi per comprarsi tutte quelle merendine alla soia? Allora dove li prendi i soldi per comprarsi tutte quelle merendine alla soia? Allora dove li prendi i soldi per comprarsi tutte quelle merendine alla soia? Allora dove li prendi i soldi per comprarsi tutte quelle merendine alla soia? Ah, adesso sono sazio. Sarà meglio fare un po' di ginnastica. Io esco. Posso sapere dove vai?